Bruno Barossetti della nazionale italiana di Ice Age Hockey, sono molto contento per questa partita, era comunque la partita che ci aspettavamo per rimanere in gruppo A e siamo riusciti nel concorso che credavamo. Se andava bene anche la partita con la Corea sarebbe stata una cosa migliore ma siamo comunque contenti.